Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale, video velocissimo, giusto un attimo per dire, visto tutto il casino che è successo stamattina con il post di Dokkan Official JP con questa gif, ho fatto anche un post community dove per prendere un attimino in giro tutta la gente che diceva E' Rosè, E' Rosè, E' Rosè, tutte le robe e ho metto, E' Kabba Super Saiyan 2 per memare, ovviamente era per memare, c'era scritto anche nel post community che era per memare Ragazzi, Maverick ha confermato 100%, eccolo qua, Goddo, Goku God, dai, si è capito esattamente, Goddo, il video è proprio questo, alla veloce, giusto un piccolo aggiornamento, velocissimo E' giusto per parlarne, anche perché effettivamente Dokkan Fest, God, Goku non esistono, c'è un LR, che non è comunque Dokkan Fest E poi basta, anzi, andiamo a prendere proprio Dokkan Info, proprio lo veloce Card, cards, ok, God, Goku, dovrebbe bastare? Ecco qua, questi sono tutti God, cioè effettivamente God, Goku, basta, ok? Mai fatto Dokkan Fest, quindi ci sta, per tutti gli hater che di solito dicono E' sempre Goku, ragazzi, svegliatevi un attimino, è Dragon Ball, è Goku, non è Vegeta, non è Krillin, è Goku Quindi, vabbè, a prescindere, c'è una cosa che chiedo, effettivamente, più che altro per tutte e due le versioni E' uscito God, Goku, Intel, R, è un LR, è un LR con già liezza, forte ora, buonissima Non voglio un Dokkan Fest Goku, che è God, Goku e basta Non voglio vedere questo, cioè, capiamoci Voglio poter rannare la turnazione, ad esempio, lui più il Dokkan Fest nuovo Oppure, lui più il Dokkan Fest nuovo Quello che vorrei effettivamente vedere è quello che è la base di questa carta, no? Non tanto a base, ma a Super Saiyan ci può stare Però a base è meglio, in realtà Spiego subito E poi, no, in realtà dipende questo, questo dipende Però a prescindere, comunque, Sam Movie è un po' una meh Perché, effettivamente, Sam Movie ed è Super Saiyan Vuol dire che non può linkare con un cacchio di Goku Sempre lì, crea quei casini un po' rompiballe Cioè, diciamo che se è base è meglio, secondo me Secondo me, se è base e dopo direttamente con un active skill va a Super Saiyan God È molto meglio del averlo a Super Saiyan e poi diventa God La cosa però che, effettivamente, vorrei anche vedere Che non c'è nessun Godku che lo fa E' quello di, invece E questo è il lato che vorrei vedere Ma spererei che non è così E che, in parte, a Super Saiyan Eh, Super Saiyan God, scusate Parte a Super Saiyan God Con un active skill o qualcosa Perde i poteri del Super Saiyan God Torna a Super Saiyan Però rimane con quel Godki in mezzo, no? Come nel film o nell'anime, comunque, no? Quando combatte contro Beerus Fa tutte le cose e poi perde il Super Saiyan God Quello sarebbe anche figo Perché, effettivamente, comunque, non è che alla fine dei conti Almeno, non mi sembrava che nel film perdesse potenza No, non perde potenza Perché rimane comunque forte Ci potrebbe stare, no? Sarebbe interessante come cosa Però quella sarebbe quella peggiore per me Perché dopo non hai una turnazione bella da poter runnare con lui Cioè, nel senso, ovviamente puoi, ok? Però mi piacerebbe poter utilizzare l'LR qua Oppure Godku Tech Avere quella turnazione proprio perfetta Due Godku perfetti Ovviamente tutto questo è speculazione E il Saiyan Day, ragazzi, è il 18, sabato Entro mercoledì probabilmente vedremo qualcosina O anche giovedì Adesso vediamo esattamente Però abbiamo una info spoilerata da Maverick Eccolo qua, Goddo Boom, lo sappiamo A posto A posto Non credo che abbia poi postato altro Tranne... Ah, questo, sì L'evento delle skill orb di Whiskey se ne va e ritorna Quindi vuol dire che probabilmente lo cambiano E chiamerebbe... Sì, chiamerebbe ancora di più la roba Ragazzi, il video breve finisce qua Lo finiamo qua Non è che c'è molto altro da dire Quindi, è stato un piacere Grazie mille per aver visto il video Lasciate un bel like Commentate Se siete nuovi sul canale Considerate l'iscrizione Ditemi la vostra su God Goku Per il Saiyan Day Detto questo Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti